E' passata apparentemente senza problemi la norma sui rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche. Il governo ha infatti inserito nel decreto crescita, approvato ieri sera, uno schema proprio di rimborsi. Secondo fonti governative gli indennizi saranno automatici per chi ha un reddito imponibile di 35.000 euro oppure un patrimonio mobiliare fino a 200.000 euro. Mentre per tutti gli altri è previsto l'arbitrato semplificato presso la commissione tecnica del tesoro di nove componenti. Il tetto dell'indennizzo diretto passerebbe dunque da 100 a 200.000 euro. I fondi stanziati per tre anni ammonterebbero a un miliardo e mezzo che dovrebbe essere recuperato dai conti dormienti ovvero non più utilizzati dal titolare e dai suoi delegati per almeno 10 anni ininterrottamente. Se la soluzione adottata dal governo viene in conto alle associazioni dei risparmiatori veneti potrebbe però esporre l'Italia ad una procedura di infrazione. Il ministero del tesoro aveva siglato con la commissione europea un accordo che prevedeva indennizi diretti fino a 100.000 euro di patrimonio o 35.000 euro di imponibile.